Siamo qui al bagno 115 per conoscere gli ospiti del Residence Villa Azzurra. Venite con me. Oh, la consorte non vuole farsi riprendere, quindi... Tu subito così? Sì, così, da secco. Cioè, senza anticiparmi? Niente, così vediamo che cosa combiniamo. Sei pianosciuto dall'acqua. Ma tu dove vai? Stai qua con me? Parlo io? Sì, sì, sì. Allora, sento dall'accento, poi me lo diceva lei. Tu ti chiami? Barbara. Barbara, tu? Nicola. Nicola. Siete vicentini, giusto? Ed è la prima volta che venite qui? No, è da una vita. Da una vita? Adesso non vorrei fare i conti. Da una vita. Ci siamo conosciuti a vent'anni e ne abbiamo trent'otto. Da diciatt'anni. Dai, non sono diciatt'anni che venite qui. Diciott'anni che veniamo qua. Sì. Tutti gli anni? Vi siete conosciuti qui? Sì, un po'. Ci siamo conosciuti, no, 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 a vicinanza. A vicinanza. E poi siete venuti qui il primo anno, vi siete trovati bene, siete tornati. Sì. Andati a Residence Villaggiur? No, frequentavamo l'Hotel Gardi prima. Ah, dai, abbiamo fatto adesso l'intervista dei clienti dell'Hotel Gardi. Dai, sei sempre qui, insomma. Non ti preoccupare, non ti preoccupare perché lui intanto riprende altre cose. Il panorama, poi taglia. Esatto, tranquillo. Diciott'anni che venite qui. Sì. Prima da soli, fidanzati, e poi con i bimbi. Da sposati e poi con i bimbi. E poi con i bimbi. Bellissimo, un'evoluzione. Sì. E poi magari verrete anche con i figli dei bimbi. Eh, si spera. Si spera. Cos'è che vi piace più di Rimini, della costa romagnola? Tu devi parlare di ste cose. Mi hai portato tu qua. Il suo cuore è qua, anche il mio adesso. Ma la cordialità, tutto. Tutto è bello qua. Io frequentavo la concorrenza. Va bene. Gli esolo, Bibiona, di là. Però sono molti più cordiali qua. Ne parlavo appunto ieri sera con la nostra amica Riccione. Sono molto più cordiali. C'è il trattamento, anche economico. Eh beh, perché infatti ne parlavamo giusto prima, ma il rapporto qualità-prezzo comunque non è indifferente. Poi appunto, se avete anche dei bambini, se avete una famiglia con dei bambini, giustamente, il rapporto qualità-prezzo è importante. E poi tutto, è servito su tutto, dai bambini fino a noi. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti